E non possiamo fare sì che questa cosa venga silenziata, non possiamo fare sì che si pensi, che ci passi, che la polimedia vada in TG per ripulirsi la faccia. E per questo oggi siamo qua, ma saremo anche in piazza l'8 marzo, come siamo in piazza tutti i giorni, e la cartola è studentessa e l'ultima di molestia. Il presente si cambia con la lotta, osare, lottare, cambiare l'otta. Il presente si cambia con la lotta, osare, lottare, cambiare l'otta. Siamo qui per denunciare la non esposizione, la non presa di parola da parte della nostra rettrice Polimeni, anche rappresentante della Commissione per la Parità di Genere alla Crui, riguardo i fatti recenti di Torino, dove è stato denunciato un professore a causa delle continue molestie da alcune studentesse della Facoltà di Filosofia, e il fatto che sono usciti diversi dati su numerevoli casi di molestie all'interno dell'Università della Sapienza, di cui la polimedia rettrice, che vanno contro il dato che ha pubblicato lei, che riguarda soltanto 13 casi, noi sappiamo che questi sono molti di più e sappiamo che i casi appunto spesso non vengono denunciati a causa della dinamica di potere che c'è dietro le molestie all'interno di un luogo con l'Università.